La scuola di formazione politica è uno strumento molto importante per avvicinare i giovani ma non solo i giovani e tutte le persone ad appassionarsi alla politica. Noi l'abbiamo dimostrato con la nostra campagna elettorale e abbiamo messo in gioco proprio la voglia di fare politica all'interno della nostra città per coltivare una passione. La passione più grande è quella di dedicarsi alla propria comunità. Per dedicarsi alla propria comunità evidentemente bisogna anche essere preparati, competenti oltre ad avere evidentemente la precondizione dell'onestà. Quindi l'onestà non è che viene insegnata, uno deve averla, deve averla cresciuta all'interno della propria famiglia ma poi legato a questo anche deve avere gli strumenti, la conoscenza per poter amministrare le proprie comunità, i propri enti pubblici, il proprio territorio, le proprie famiglie. Quindi è fondamentale ed importantissimo iscriversi e partecipare a questa scuola che dà gli strumenti per poter essere il giorno dopo, ovviamente il giorno dopo che si è finito il corso, delle persone che sono preparate e che sono appassionate a fare il bene della propria comunità.